Musica Ciao ragazzi bentornati sul canale di Giochi Next Gen siamo qui oggi con FIFA 16 ed esattamente ragazzi come vi avevo detto nello scorso video che se raggiungevi 10 like vi avrei portato un pack opening indipendentemente da questo ho pensato comunque di portarvi un pack opening perché so che a molti di voi piace guardare i pack opening subito ragazzi i primi 100 FIFA Points ne sono andati vediamo ti prego ti prego ti prego fa che esce qualcosa ti prego Denisov niente ragazzi vediamo merda ok ragazzi secondo pacchetto oro normale da 100 FIFA Points vediamo blind blind insomma ragazzi bella cagazione di pacchetto comunque non mi piace ragazzi ora si passa ai pacchetti oro premium maxi e speriamo che ci vada meglio ti prego ti prego ti prego ti prego non volevo neanche guardare non volevo neanche guardare oh prego qui eh vuoi vedere ma dai ma che cos'è Zagove pazzini ragazzi ho trovato pazzini ma ce ne diamo conto ma che giocato è Gamberini a su e cotto Marcelo ragazzi ma che pacchetto è Fernandez ok ragazzi secondo pacchetto oro che è Collarov insomma va bene ragazzi Collarov mi va bene mi va bene anche perché avendo la formazione inglese terzo pacchetto oro premium maxi vediamo vediamo attenzione Portogallo no ragazzi per un attimo mi si era fermato il cuore appena visto Portogallo non ci ho capito più nulla ma purtroppo non era chi avete capito benissimo si è CR7 non era lui ok ragazzi ecco qui un altro pacchetto oro premium maxi vediamo come va questo Moulumbu ma chi è Moulumbu ma che razza di pacchetti sono no ragazzi fanno schifo questi pacchetti fanno veramente schifo cioè sono tutti i contratti stile intesa sistema del Tottenham ok ragazzi visto che finora non ho tratto niente ho deciso di aprire tre pacchetti promo poi mi avanzerebbero qui 200 e quindi i 200 li sprechiamo subito ora con dei pacchetti oro vediamo se troviamo qualcosa fuori il primo attenzione attenzione ti prego ti prego dio fammi trovare qualcosa di buono ti prego chi è Onazi cioè ragazzi abbiamo trovato Onazi sembra vedere un venditore di rose ambulante Onazi ok ragazzi apriamo l'altro pacchetto da 100 100 FIFA Points vediamo Mendy ma che cazzo di pacchetti i cameni ma chi sono cioè buono soltanto per i stili intese e forme fisiche ragazzi niente di niente siamo andati a vuoto anche in quest'altro pacchetto ragazzi apriamoci il pacchetto anche premio che ha avuto appunto di giocatori in prestito vediamo attenzione attenzione speriamo di avere almeno uno buono in prestito per sette partite Glick Camel Glick per sette partite va bene va bene una forma fisica lo stemma del carpi va bene e è questo lì ok ragazzi va benissimo ok ragazzi eccoci qui giunti però al clou di questo video l'apertura dei tre pacchetti giocatori radi ragazzi ne aprirò tre per quindi 3000 FIFA Points ok che Dio me l'ama di buona speriamo di trovare qualcosa almeno in questi ultimi tre pacchetti partiamo subito col primo vediamo cosa troviamo ragazzi non vorrei neanche guardare io mi chiudo gli occhi non voglio guardare prego dimmi che sei forte dimmi che sei forte bene 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 Gerard Piquet buono buono ragazzi Gerard Piquet non male poi abbiamo trovato Sommer Eremenko Persici dell'Inter Vanderville Kite Yanma De Maio poi Geko Young Barkley ah cioè questi quattro pure a doppione che ragazzi il primo pacchetto non mi lamento Gerard Piquet mi va bene speravo di meglio comunque il primo pacchetto va benissimo eccoci qui giunti ragazzi alla seconda apertura del pacchetto oraro vediamo chi esce no ancora Sommer l'ho appena trovato di nuovo lui ragazzi doppione poi abbiamo trovato Martínez Piatov Piatov Caballé Sal Carvalho Imbulà Ocampos Ginzek Kiesi Routledge Naco Ulma e Sio ragazzi questo pacchetto veramente veramente di merda veramente un pacchetto di merda ok ragazzi eccoci al terzo e ultimo pacchetto per questo qua poco minchi è John Terry ok un altro difensore ragazzi John Terry abbiamo trovato insomma allora Demicellis Jovetic Santos poi Cesni qui altro questa qua Alessandini Jansson e Loosle ragazzi così così insomma comunque abbiamo trovato John Terry e quindi va bene così poteva andarci anche peggio non mi lamento però insomma speravo di trovare qualcosa di più ok ragazzi allora il poco il poco aspetta rifaccio ok ragazzi allora il pack opening è finito spero che il video vi sia piaciuto se è così commentate condividete mettete tanti like se volete vedere altri pack opening sul canale se raggiungiamo almeno 10 like prossimamente vi porto un altro pack opening quindi fatemi capire che vi piacciono questi pack opening ovviamente se non l'avete fatto iscrivetevi al canale per restare sempre in linea per poter vedere ogni volta che porterò i futuri pack opening qui dungeonero83 è tutto ci vediamo al prossimo video bella ciao